Se è vero che colprato i biancorossi erano usciti immediatamente sconfitti, con la Bagnolese il punto conquistato è oro sprecato. Un'ingenuità di Gigli, l'ennesima in questa stagione, lascia la formazione di Mastro Nicola in dieci uomini, quando c'è da difendere con i denti un vantaggio prezioso in una partita dove paradossalmente la Bagnolese, piuttosto complimenti, affara a tratti i rimini della situazione. La voce grossa non serve, le scusanti neppure, tempo di crisi, Covid-19, sforzi economici notevoli, ok, ma alla fine i nomi ci sono e come. Questa squadra ha la sindrome del dottor Jekyll e mister Hyde e badate bene, la colpa non è di uno in particolare, ma del collettivo. Se si perdono chance del genere, Prato e Alianese avranno vita facile, benvenuti dunque in Serie D. Però in questo caso la vittoria era portata di mano e questo fa male non poco perché i rimini perde l'ennesima chance per agguantare i primissimi posti della gradatoria. Eppure l'inizio sembrava indiscesa per i biancorossi, oggi in maglia blu. Dall'angolo di Ricciardi, Gigli raccoglieva la sfera gettandola alle spalle di Aurelli per l'1-0, ospite. Lo stesso Rimini produceva gioco ed azioni, da attraverso di Ceccarelli Gigli dimostra quello che sa fare meglio, persiste nella via del gol, ma questa volta non trova lo specchio della porta. La conclusione a giro di Cuoghi è il primo segnale out per il Rimini che si fa sorprendere nuovamente dall'incursione in area di rigore di Silipo. Scott e i compagni rimangono a guardare. La bagnolese in difesa non è perfetta, ma stoppa l'incursione avversaria nel momento giusto, come in questo caso. Dall'altra parte, Scott è costretto a distendersi per evitare il pari. Il primo tempo si conclude sullo 0-1 per gli ospiti. Nella ripresa nasce il colpo di testa di Fai, con Scott che deve rifugiarsi in corner. Fa il suo ritorno in maglia bianco-rossa Scott Arlotti a rientro dopo la parentesi di Monopoli. Wutai si vede poco, ma quando è servito Aurelli è avvisato. C'è da gestire il match. Ecco che Gigli la combina grossa. Entrata pericolosa sotto gli occhi del direttore di gara e cartellino rosso per lui. Rimini in dieci uomini. L'ingresso di Scott Arlotti offre maggior profondità agli ospiti, specie in contropiede. Evidenziato da questo scambio con Wutai, con Aurelli chiamato nuovamente all'intervento. La bagnolese rischia tutto per tutto. Il Rimini usa Valeriani per questa cavalcata. La bagnolese superlattivo nel primo e nel secondo caso sulla battuta colpo sicuro di Pecci. Dall'angolo, dall'altra parte, Faiit mette a lato. Nel frattempo Gomis rimane a terra. Scotti getta volontariamente la palla di fallo laterale. La bagnolese raccoglie la sfera e la gioca in proprio favore, mettendo al centro questo traversone che Scotti raccoglie, permettendo successivamente ai suoi di liberare l'area di rigore. A photo finish da cross di Maidi nasce il colpo di test involontario della difesa del Rimini, che sbatte sul palo alla destra di Scotti. L'ex scappi ringrazia, sigrando i gol del definitivo 1-1, trovando Itapin vincente. Nel finale la bagnolese dimostra di volere i tre punti, se non fosse per San Francesco Scotti. Il tiro di Silipo sarebbe stato quello della domenica, nera per i biancorossi in questo caso. Ma se di sfortuna si palla, quando Viti in velocità mette la quinta, lascia sul posto chi guida il ciao. Non ce n'è più per nessuno, ma il pallone sbatte sul montante alla sinistra di Auregli. Fine dei giochi. Un pareggio amaro per il Rimini, che paga cara all'espulsione, la bagnolese non ne approfitta, raddrizzando la gara solo nel finale, ma nell'extra time e trambe le compagini hanno rischiato di fare il colpo grosso.